buongiorno a tutti e benvenuti a questo episodio speciale con i destini incrociati ebbene giustamente questa è la finale finalissima del mini torneo che avevo iniziato nella live che ho fatto settimana scorsa su injustice allora questo torneo prevedeva in semifinale il buon flash contro a fermi tutti flash contro bain e lì ci fu una vittoria con punteggio bulgaro proprio di flash 2 a 0 vinse e poi l'altra finale c'era contrapposti joker a black manta e qui invece c'è stato lo spartiacco di makuta 1997 che ha scelto joker quindi oggi ci sarà la gran finale la grand final tra flash e joker con questo bellissimo nuovo taglio di capelli e anche il vestitino chi vincerà la zona di flash sinceramente non lo so e quindi andremo a farla qua guerrieri diretti a gotham city fai lo spiritoso caro joker eh guarda che io sono la persona più veloce del mondo e tu non puoi fermarmi ahia certo con le pistole che ti ritrovi puoi fare tutto quello che vuoi puoi abusare di me in lungo in largo ma se io c'ho la super velocità tu non passa nada beh volendo flash può rallentare il tempo ma non può come geras che è stato scoperto aggiungere del tempo all around ti sei appena alzato eccalalla lo sapevo ci mancava anche quella drone power però sono storto e non l'ho lanciato bene ciao anarchia com'è ti piace il tempo qua aia che cos'è questo rallentamento non passa nada bellissima sta tipologia di attacco lo vinco io il primo round joker è difficile combattere una macchia rossa eh eh sì ah la stretta di mano abbiamo quasi finito ah sì eh quindi mi dici che abbiamo quasi finito porca la miseria io volevo andare a vedere pure quale bastardo cioè non quale bastardo quale nuovo film c'è in teatro però qua non me lo vuole andare a far vedere a meno che no eh non addentriamoci incavolate altrimenti qua andiamo a perdere l'incontro porca la miseria impestata aia e che botta rallentamento del tempo rallentamento del tempo sbadabam aia però non è servito a nulla è servito però a prendere aia un bel piede di porco in mezzo agli occhi vittoria di joker questa è stata la prima sfida flash merita di vincere questo mini torneo scopriamolo adesso con l'incontro di joker devi fermarti ora ma il mio capolavoro non è completo no è quello che ripeti sempre avvio eh sì in effetti lo ripeto sempre e quindi se il mio sketch funziona perché non continuare le gomme nuove della batmobiles ti servono per caso ah no tu non hai bisogno di muoverti con i mezzi pubblici sei anche fortunato porca miseria che non sai di questi problemi come noi comuni mortali certo che chiamare joker comune mortale fa ridere però ecco diciamo che adesso ti farò ridere io caro flash maledetto che ti blocchi sempre perché ho usato quella roba maledizione aia oh e becca questi golpi perché non mi fa ridere aio io sto ridendo dalle botte che mi sta tirando questo ah 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 aia e io ti auguro di beccarti sto delirio no eh non sei voglia di beccarti un po' di delirio bastardo brutto schifoso beccati ste scoltellate scoltellate che fanno bene al cuore alla vita aia alla tua maledettissima salute maledetto flash almeno un round almeno one round io voglio vincere almeno un round tu farmi vincere io e essere contento aia però sei uno stronzo eh ti prego non risparmiarti ti scaglierò in un altro universo però l'ho fatto io stavolta eccala là e ha vinto lo stesso vittoria attaccante bastardo ah quindi l'ho attivato io e ho preso un pugno nel sedere vittoria di flash questo è stato il secondo incontro adesso voi dovete far tanto che scrivere sotto nei commenti con chi io mi sono comportato meglio lasciando perdere se ho vinto o perso ecco e noi ci vediamo alla prossima con una grande sorpresa qua su injustice 2 ciao a tutti